segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te conti è come quei clown che non fanno più ridere alla fine di una carriera io dico il movimento 5 stelle ci faccia sapere se vogliono andare a elezioni si va da elezioni se si vuole andare avanti con questo governo si va davanti con questo governo che è la scelta che noi preferiamo se si vuole fare un draghi bis si faccia il draghi bis altrimenti smettano con questa tarantella indecorosa